Allora ragazzi, veniamo da due partite, due risultati positivi, stiamo migliorando, anche se la prestazione di lunedì non è stata il massimo, siamo riusciti a vincere l'importante è quello, però oggi dobbiamo giocare meglio di lunedì. La partita può essere più semplice delle altre, ma non dobbiamo sopravvarla, quindi mi raccomando, cazzo di tutti, 100%, anzi di più, entriamo in campo e andiamo a vincere questa partita. Uno, due, tre, Virtus Casio Pettano, ale!